Costruire il benessere per ogni tipo di ambiente è la nostra missione. Orientare la gamma verso prodotti a basso impatto ambientale e a più alta efficienza è la nostra scelta. Ross nasce a Codroipo nel 1968, specializzandosi nella produzione di apparecchi per la climatizzazione e il trattamento dell'aria ad uso civile e industriale. Collaudi costanti su ogni unità prodotta e severi test funzionali effettuati nei nostri laboratori hanno lo scopo di testare ciascun prodotto nelle più diverse condizioni ambientali per garantire sempre i più elevati standard qualitativi. Per rendere possibili test così specifici e approfonditi, l'azienda è investito in affidabilità e ricerca realizzando un nuovo laboratorio di 1000 m2 tra i più grandi d'Europa con cabine di prova per unità con potenze fino a 1500 kW I clienti possono così verificare in via preventiva la prestazione dei prodotti prima dell'installazione Qualità di prodotto e qualità di servizio sono certificati UNIEN ISO 9001-2000 Vision 2000 Nuovi obiettivi per ROSS saranno la focalizzazione nelle applicazioni idroniche sempre più efficienti e le gestioni integrate degli impianti ROSS. Il futuro è tra noi